Ciao ragazzi sono TheXP Code E in questo video volevo mostrarvi il Call of Duty Modern Warfare 3 Elite Allora, qua potete osservare la pubblicità E andiamo a cliccarci sopra Come potete vedere c'è il pacchettino rosa in basso a destra della immagine Questo vuol dire che io l'ho acquistato Pagato ben 49,99 Cioè 50 euro Però ragazzi secondo me ne valsa proprio la pena Vedete il pacchettino rosa E 50 euro E ragazzi cosa vi posso dire Questo è stato il mio primo acquisto in PlayStation Store E secondo me è stato l'acquisto migliore E vi voglio far vedere assolutamente una cosa Che allora prima di tutto Con questo coso qua Cioè con questo pacchetto qua Vi danno un anno di abbonamento per Call of Duty Elite Il preordine naturalmente che poi attivi il... Scusate l'8-11-2011 E ti danno lo stato di fondatore Il socio fondatore del Modern Warfare 3 Elite Che secondo me deve essere una cosa veramente figa E attenzione ragazzi E attenzione ragazzi Vi danno anche questa meraviglia Come potete vedere questo splendido tema Questa è il Nuketown Se potete vederlo Che ci sono i due... Il camion e il pullman e la Jeep Le due case Adesso vi faccio vedere che Di solito ci sono... Adesso io spegnerò il sistema E di solito ci sono più temi Perché cambia Di solito quando spegni Dovrebbe comparirtene un altro Adesso accendiamo Aspettate 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 Eccoci qua Accendiamo Scusate se la grafica non è delle migliori del video Ma sto usando l'iPhone per farlo Quindi Ecco no Adesso non ha cambiato Allora aspettate Spengo di nuovo Ecco che riparte Un momento Ecco Vabbè comunque è sempre lo stesso Farò altri video Per illustrarvi poi Un qualcos'altro Qualche altro Sfondo che Ce lo fa vedere Magari sono Nelle impostazioni dei temi Riusciamo A farcene vedere qualcuno I temi che ho io sono Lo spray Tutti quelli che ce l'ha Ce l'hanno tutti Questo Arrivo Ecco questo qua Ad esempio E un altro Lo potete vedere solo in piccolino La prova Darvi un'idea Sarebbe così Oppure c'è il teschio grosso Quello lì C'è il teschio proprio grosso Nell'immagine un po' sfocato Come se fosse Questo qua Aspettate Ecco qua Come se fosse questo qua Così Marroncino Ecco qua potete vedere Che è Nuketown proprio Vabbè io sono DxpCode Mi raccomando Iscrivetevi Votate E commentate Bella ragazzi